22 pc rubati, erano nuovi di zecca, fotocopiatrici e stampanti rotte, vetri infranti, porte blindate completamente rovinate, una scuola distrutta e il bollettino dei danni causati da un raid vandalico nell'istituto comprensivo di Mirto Crosia pubblicato dalla dirigente Rachele Donnici sul proprio profilo facebook. La preside questa mattina si è recata a scuola e ha scoperto quanto avvenuto nella notte. Insieme alla direttrice dei servizi generali amministrativi ha denunciato l'accaduto ai carabinieri che sono intervenuti per avviare le indagini. Non si tratta del primo episodio di vandalismo che interessa la scuola di Via del Sole. Già nel settembre scorso l'istituto aveva subito altri atti che avevano portato ad avviare una gara per l'installazione di un sistema di videosorveglianza non ancora operativo a causa dei lavori di adeguamento antisismico previsti per la scuola. Hanno distrutto il superlietto, il frigorifero che c'era e soprattutto hanno anche rotto parte dei pc, parte rubati, parte rotti. È stato rotto anche un impianto wifi, cioè è stato un attacco distruttivo, cioè un voler colpire al cuore la scuola. Ho voluto fare questa intervista per dire che la scuola non si ferma perché la scuola qui nel nostro territorio è un presidio di legalità, è una scuola di eccellenza, è una scuola che andrà avanti. In mattinata abbiamo ripristinato il tutto. domani mattina sarà pronta la wifi, c'è stata regalata gentilmente una porta, la porta blindata che è stata distrutta, la stanno installando, gli operai del comune stanno ripristinando i vetri e i privati ci hanno già regalato 10 pc, altri 3 o 4 i professionisti della zona stanno facendo una raccolta per darceli e per poter ripristinare il laboratorio. L'ho voluto aggredire, la questione per far capire, la scuola non si ferma, nessuno è in grado di fermare la scuola o di intimidire l'azione di legalità agita che la scuola porta avanti da un bel po' di tempo.